ultima gara di giornata quella dedicata alla categoria esordienti al secondo anno di attività anche per questa categoria numerose le presenze infatti oltre 150 hanno onorato il 37esimo grapremafiazioni 14esimo trofeo virginio romano alla memoria gara movimentata che ha prodotto anche qualche significativa individualità con un gruppetto di attaccanti che ha velocemente guadagnato vantaggio sul resto della corsa mettendo così un'importante ipoteca sull'esito finale a nulla sono valsi i tentativi di recupero operati dai restanti in gara e vita facile per il tedesco leslie lans yuri brioni davide persico gianluca cordioli edoardo zambarini e andrea gatti che con cambi irregolari andatura costante hanno portato a termine una bella azione di fuga ottima l'organizzazione affidata alla società locale gs lodetto e pubblico delle grandi occasioni in zona arrivo ad aspettare lo sprint parte lungo senza esitazioni l'alfiere in maglia della ciclistica dro di milano e coglie la prima vittoria stagionale secondo classificato andrea gatti in maglia camignone mentre la medaglia di bronzo per gianluca cordioli maglia hotelli quarta piazza per davide persico gazzanichese quinto iuri brioni sesto posto per il tedesco figlio d'arte leslie lans mentre lo sprint degli inseguitori giunti sul traguardo con un ritardo di 48 secondi vede mattia franzelli conquistare la settima piazza davanti a pietro generali ottavo nono andrea adami e decimo federico chiari edoardo un magnifico inizio di stagione come è andata è bene all'inizio ho fatto un po fatica a entrare perché sono partito in fondo fatto un po fatica a rientrare nelle prime posizioni dopo ho visto che è partita la fuga le gambe c'erano e ho dato il massimo per rientrare sono entrato dato cambi regolari con gli altri fino arrivare all'ultimo giro dando il tutto anche in volata dove hai impostato la volata io sono partito mi sono messo davanti all'ultimo chilometro e dopo sono stato sempre davanti e agli ultimi 200 metri ho dato tutto quanto sei soddisfatto tantissimo te l'aspettavi no a chi la dedichi a tutti quelli che stiamo vicino soprattutto l'izio Grazie a tutti.